Il meraviglioso vestito di Demet Ozdemir e il grande supporto al suo amante Demet Ozdemir è innamorata di Og Zankok da quattro mesi. La relazione tra i due è emersa all'inizio di gennaio. Demet Ozdemir, protagonista della serie tv My Home My Destini, attribuisce grande importanza a questa relazione. Ozdemir conosce Og Zankok, che conosceva prima, e lo sostiene di tanto in tanto. Og Zankok ha introdotto la sua nuova canzone. Demet Ozdemir ha anche fornito supporto promozionale. Ozdemir ha condiviso sull'account Instagram la nuova canzone del suo amante. I due possono incontrarsi di tanto in tanto a causa della pandemia e delle intense condizioni di lavoro. La famosa coppia non trascura di condividere su Instagram quando si incontrano. Demet Ozdemir ha condiviso la sua nuova posa con la sua amata sul suo account Instagram e ha attirato grande attenzione dai suoi fan. La famosa attrice attira anche l'attenzione dei suoi seguaci con il suo stile di abbigliamento e le sue caratteristiche fisiche. Si è parlato anche dell'outfit che Demet Ozdemir indossa mentre fa sport. Si è visto che l'attrice, che fa sport con il suo vestito rosso, non ha mai abbandonato la sua eleganza. L'attrice, che ha avuto una giornata divertente, brillava con il suo vestito rosso. Demet Ozdemir continua ad aumentare il numero dei suoi follower con i suoi post positivi e la sua simpatia. Lei, che ha quasi 13 milioni di follower su Instagram, è conosciuta in tutto il mondo.